Ciao e grazie, oggi Felpa del Real Cornaredo per celebrare la vittoria del Real Cornaredo, Calcio a 5, squadra di cui il presidente è mio cugino Luca, da più di 10 anni ormai la guida della squadra vicino a Milano, nei pressi di Legnano, a 15-20 km da Legnano. Sabato vittoria 3-0 a Bergamo, 5 vittorie su 6 in campionato, Serie B, unica sconfitta contro il Cagliari, il quale ha speso più soldi solo loro di tutte le altre squadre che partecipa al campionato, quindi squadra di un altro pianeta. Quindi complimenti al Real Cornaredo, onore al presidentissimo Luca Cogliati e al grande mister Renato Fracci, bravo Rena, complimenti per il lavoro, applauso al mister Primi. Juventus-Milan non è stata una grande partita, non mi è piaciuta, mi sono anche annoiato, devo essere sincero, non c'era quel pathos perché la partita è stata un po' giocata su ritmi blandi, soprattutto dalla Juventus, male perché la Juventus soprattutto al primo tempo ha regalato quasi tre uomini, barra 4 al Milan perché Cristiano Ronaldo non pervenuto, Pjanic non è ancora in condizioni dopo l'infortunio che ha avuto, Bentancur, tutti continuano a dire che è un grande giocatore, io ogni volta che lo vedo, più lo vedo più non mi piace, lo vedo un giocatore inutile, sarà un mio pensiero però io lo giudico così, ogni volta che lo vedo non mi dà mai l'impressione, è sempre lì, è come quando ti manca, è un brofio, è un brofio, però gli manca uno a fare due, ecco Bentancur è sempre quello, non fai tempo a dirgli bravo che sbaglia il passaggio, fa un dribbin giusto bravo, sbaglia, sbaglia, non so per me, io lo vedo così, per me è un giocatore che non mi piace, non riesco a capire tutti questi elogi che tutti gli fanno, ma quando è un po' in campo non mi sembra di dimostrare, fa una partita sì e sei no, va bene, e anche Bernardeschi, male Bernardeschi, ma molto male, Bernardeschi ha fatto l'anno scorso i primi due o tre mesi la Juventus alla grande, e poi dopo quei due o tre mesi lì è un calo totale, anche nazionale, perché? Perché cerca sempre di fare giocate che vanno contro la logica del gioco del calcio, sempre con questo rientrare sul sinistro e cambiare gioco su Alexandro, 40-50 metri di cambio gioco che, prima cosa, palla non tesa, quindi la difesa fa in tempo uscire a salire e andare a coprire, quando la palla è giusta la difesa riesce a salire, quindi metti sempre in difficoltà quello che stoppa la palla, e la maggior parte delle volte si becca sempre la ripartenza della squadra avversaria, bisogna giocare semplice, caro mio Bernardeschi, non cercare sempre giocate che vanno fuori dalla logica del gioco, il gioco del calcio è semplice, il gioco del calcio è semplice, e rientri, bravo, ne hai saltato uno, boom, dentro, uno o due con la punta, o gioca vicino e vai dentro nello spazio, invece sempre questo cambio che non ha portato mai niente, assolutamente niente, anzi più di una volta cambio gioco che va a finire direttamente in fallo laterale, e il pubblico della Juve se ne ha accorto ieri perché ieri lo ha beccato e lo ha fischiato più di una volta, De Ligt bene, finalmente sembra che il giocatore olandese stia giocando e dimostrando per quello che vale, e soprattutto la Juve vince grazie alla panchina e grazie agli innesti di Mr. Sarri, che in panchina quando si gira fa così veramente, come diceva Antonio Conte, può pescare e pesca sempre bene, perché ieri il gol che ha fatto tra collaborazione da Gras Costa, Di Bala e Guain Di Bala, è di un'altra categoria ragazzi, infatti io non mi sento di dare, se devo dire, se devo essere onesto, dico che è più merito della bella giocata dei giocatori della Juventus, che de merito della difesa del Milan, perché lo scambio è stato veramente veloce, e Romagnoli si è andato un po' piatto, ma non ha avuto neanche il tempo di sistemarsi bene, quindi devo dire più meriti della Juventus nel gol, che de meriti alla difesa del Milan, non mi è piaciuto assolutamente il gesto di Cristiano Ronaldo, sono d'accordo con Fabio Capello, che ieri giustamente tutti cercavano di far passare in secondo piano il gesto di Cristiano Ronaldo, e Fabio Capello, che è un grande allenatore, il tourmalé degli allenatori, ha detto no, no, perché soprattutto quando parlava con Cesni al club, che differenza c'è tra te e Cristiano Ronaldo? È un giocatore dello spogliatoio, del gruppo, e va trattato come gli altri, è stato un gesto brutto, un gesto che non mi aspettavo da un giocatore come lui, e quindi dovrà pagare, e penso che la Juve, e spero che la Juve, intervenga con una multa, che non gli cambia la vita a lui perché tutto quello che guadagna, a cazzo non ne frega di pagare una multa, ma è un segnale forte verso lo spogliatoio, perché è vero che lui è il campione, il fenomeno della squadra, però qualcuno potrebbe anche aver dato fastidio a questo gesto, e quindi è giusto che la Juve intervenga e si faccia sentire, assolutamente. Il Milan invece ha giocato bene, sicuramente forse meritava il vantaggio nel primo tempo, ha avuto più occasioni, ha tirato più in porta, però il Milan non mi dà l'idea di una squadra che quando attacca faccia paura, questa è la sensazione, sì un buon possesso palla, giro palla, ripartendo, ma non mi dava l'idea di essere una squadra pericolosa, e soprattutto il Milan è una squadra che gioca senza attacco, mi dispiace dirlo, ma mi sono convinto sempre più guardandolo che Piontek veramente l'anno scorso è stato estratto, perché il colpo di testa che fa ieri dopo 15 minuti sul cross di Suso, il quale Suso, apro una parentesi perché mi sono arrivati dei messaggi dopo il gol contro la Spal, io Suso l'ho sempre definito l'unico giocatore in grado di cambiare l'equilibrio del Milan, perché è l'unico giocatore che può dare qualcosa in più, può spezzare i raddoppi, può inventare qualche cosa, io l'ho contestato per la sua pigrizia in fase difensiva che ha costato due punti al Milan, ma sul piano del gioco io Suso, se sono la natura del Milan, per me Suso gioca sempre, questo è il mio pensiero e mettetevelo in testa e mettetevi il cuore in pace, per me Suso è l'unico giocatore del Milan che può cambiare questa squadra, insieme a Giacomo Jack Buonaventura che purtroppo rientra da un grosso infortunio, quindi ci vuole un po' di tempo, e ieri Piontek su questa palla che ha dato Suso, che ha colpito di testa mandandola fuori penso di 4 metri, mi ha dato l'impressione di essere un giocatore che non sa neanche dov'è, lì il centravanti va istinto, cioè sa che sei in quella zona di campo e sa il movimento che devi fare, e lui mi ha dato l'idea di essere uno spaisato, che non sapeva neanche dove fosse, e questa è la cosa che più mi lascia preoccupato, e soprattutto anche un'altra giocata che non mi piace, quando stoppa sta palla, la stoppa sempre a due metri, non la stoppa mai vicino, e più di una volta arrivano i difensori e la portano via, il grosso problema del Milan è l'attacco, il Milan non dà l'impressione di far fatica a fare gol, ieri ha giocato bene, Grande Conti finalmente è tornato sui suoi livelli, ha giocato bene Benassera, anche se ogni tanto porta troppo palla, dovrebbe magari fare un tocco in meno, e far fare due metri in più alla palla, ha giocato bene Suso, Cialanoglu, Milan ha giocato bene, ha giocato la sua onesta partita, però purtroppo a calcio, per vincere servono le giocate dei campioni, e i campioni li ha la Juventus, e non li ha il Milan, questa è la verità, non sono assolutamente preoccupato per il Milan, per la Serie B, è una grandissima cazzata, il Milan non lotterà sicuramente per la Serie B, ma adesso sicuramente risalirà la classifica, questa della Serie B è una grandissima cazzata, che stanno mettendo in giro, non so per quale motivo, ma il Milan non lotterà sicuramente per quella posizione, non so se riuscirà ad arrivare in Champions, però il Milan sicuramente si rialzerà, perché ha trovato un allenatore, che sta dando un'inquadratura di gioco, ha scelto i giocatori con i quali andare avanti per la stagione, e quindi sicuramente il Milan si rialzerà. Una nota di così, un numero che mi piace sempre dire, che ho constatato e misurato proprio io ieri di persona, sapete che io sono per il tempo effettivo nel gioco del calcio, ieri ho preso il tempo effettivo nel secondo tempo, bene, si sono giocati 49 minuti, cioè c'è iniziato al 45esimo, sono stati 4 minuti di recupero, 49 minuti di gioco, tempo effettivo 24 minuti e 52 secondi, tirate voi le vostre conclusioni, ciao e grazie.